Ciao a tutti i amici di fotografia! Qualcuno ha parlato delle storie semplici che si trattano in una città centrale? Oggi scopriamo proprio questo. Questo luogo è più che solo un luogo, è il cuore vivente vivente di una città e la nostra missione è di capire la sua essenza senza venire fuori dalla sua confine. E con noi per questo progetto sarà il mio amico colombiano, Strauss. Ciao Strauss! Ciao a tutti! Sono Strauss e sono felice di essere qui, portando fotografi di fotografia in la città centrale della città. Iniziamo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.